Cosperante, ma cosa c'è qui? Fermo, 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 non so dov'è Chi è che ride? No, 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 no Fermo, 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 non so dov'è Non so dov'è Vieni qua, vieni qua Tranquillo, tra... Ma che cazzo Dopo, dopo sta partita, dopo sta partita No, 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 cazzo No Ma siete diventati dei mostri? Oh porca di quella puttana Posso prendere il cadavere? È perché... Sono due miei amici Posso? Prendo, eh No Ma... Che cazzo è successo? Ah, sono partiti Ma come sono partiti? Ma come, no? Missing, era vivo Cazzo, no Io regalo e stavo guardando l'ombra Vi siete presi il vostro E la bomba Io Ero vivo, ero vivo, ero vivo io E allora, my bad Ho visto praticamente... Eh, io sono stato fermo per un po' I cosiddetti che hanno fatto un ammasso di cadaveri Allora, aspettate Rientro subito Che facciamo entrare di nuovo Zilo Ok Grazie, Ral Ciao, I don't know Come va? Grazie, Leurochi Gentilissimi, raga Grazie di cuore Sì, siamo anche su Twitch, Stallions Eeeh, invitiamo tutti quanti... Ho sbagliato personalità È franceo, ho visto, ho visto Ma non...